buongiorno buongiorno a tutti benvenuti tolgo la condivisione dello schermo e cominciamo il nostro webinar come da come da programma allora io innanzitutto mi presento sono tantardini e sono sono qui oggi sono un docente dell'accademia di belle arti santa giulia dove insegno fenomenologia dell'immagine cultura visuale editoria e redazione sono il coordinatore della scuola di grafica e comunicazione quindi il diploma accademico di primo e secondo livello grafica e comunicazione e in accademia mi occupo di una serie di progetti legata legati a quello che noi chiamiamo la ricercazione ovvero diciamo quella relazione che vi è fra lo studio la progettazione e la realizzazione a partire quasi sempre dalle immagini di processi di comunicazione o di mostre installazioni edizione insomma una serie di fatti artistici e di relazioni locali nazionali internazionali dove i protagonisti gli autori degli elementi che formano il processo di quei fenomeni che poi servono proprio per comunicare sono gli studenti stessi i quali guidati chiaramente dai docenti studiano imparando a lavorare sia attraverso la ricerca e l'approfondimento metodologico quindi diciamo uno studio più tradizionale se vogliamo fatto proprio di una confidenza con i libri con i grandi concetti con la profondità secolare della cultura che attraverso l'utilizzo di tecnologie mettendosi in relazione quindi con dei committenti reali questo significa imprenditori significa brand significa istituzioni pubbliche private significa musei fondazioni centri di ricerca e quindi chiaramente non è sufficiente semplicemente consegnare un progetto finito questo chiaramente è essenziale e questo progetto deve essere anche fatto in modo tale che possa essere messo in atto ma anche avere la capacità di stare in relazione con queste persone e quindi ecco perché la matrice culturale la capacità di avere dei rapporti di avviare processi di comunicazione con qualcuno che ci chiede una consulenza capite subito anche da questa mia brevissima introduzione che c'è che esiste una relazione da sempre tra le arti la comunicazione la realtà lo studio la tecnologia l'umano la creatività i social network magari quelli non da sempre ma in qualche modo soprattutto in questa fase ultra contemporanea dell'epoca moderna direi che sono diventati i protagonisti connettori di una serie di cose che oggi scopreremo insieme all'amico e collega benedetto de maio con me oggi infatti anzi protagonista di questo appassionante incontro che ho il piacere di moderare che si intitola internet e arte the place to be incontro con benedetto de maio l'amico e collega evidentemente benedetto de maio in questo modo ovvero con la sua presenza benedetto con la tua presenza abbiamo risolto se non il titolo il sottotitolo incontro con benedetto de maio infatti il sottotitolo maio è qua potrebbe sembrare scontato ma essendo lui uomo che frequenta spazi extratemporali the place to be e da quelli produce realtà attraverso i meccanismi della cultura visuale delle immagini avrebbe anche potuto non esserci benedetto de maio è un docente di accademia di belle arte santa giulia ecco perché siamo colleghi insegna comunicazione pubblicitaria nel corso di diploma accademico di secondo livello in creative web specialist e ultime tendenze delle arti visive nel corso di diploma accademico di secondo livello nel bienio specialistico di grafica e comunicazione badate bene ultime tendenze delle arti visive una materia prettamente teorica che però ha diciamo così un intellettuale della rete quindi un artista un content creator come vedremo come egli stesso ci racconterà che attraverso una prospettiva pratica concreta di comunicazione come impone la rete social indaga delle questioni estremamente teoriche che stanno alla base della creazione della fenomenologia dell'immagine della cultura visuale insegna anche arte immagini ancora una volta una dimensione diciamo teorica per quello che è la nostra tradizione nella scuola secondaria di primo grado ed è tutor tic all'università all'università di cocca ma come egli stesso si identifica per quanto riguarda la questione legata ai social e in particolare ad instagram è un content creator gli argomenti essenziali che ci racconterà attraverso i quali attraverso di lui insomma entreremo in una dimensione molto interessante hanno proprio a che fare un po come io ho cercato di buttare la in questa breve introduzione tra arte e comunicazione immagine realtà identità quindi identità visuale la questione il grande vuoto della contemporaneità i mecenati dove sono chi sono i mecenati oggi la creatività in qualche modo il rapporto che c'è tra creatività comunicazione arte e pubblicità e per quanto ben detto sia una persona estremamente riservata come tutte le persone insomma di alto profilo io però cercherò anche di farci raccontare qualcosa della sua vita perché è questo la nota biografica è fondamentale quindi ora io mi interrompo penso mi è venuta in mente una frase di un autore che ha sia a me che al mio collega e amico professor de maio piace molto si tratta di di de bord che nel suo libro titolato la società dello spettacolo scrive lo spettacolo non è un insieme di immagini ma un rapporto sociale fra individui mediato dalle immagini questa cosa non so perché a me fa sempre venire in mente il social network trovo che sia straordinario una frase cent'anni fa quindi benedetto che dire professor de maio arte nei social network arte e comunicazione come si muove l'arte nei social in particolare su instagram benissimo allora grazie massimo per questa presentazione direi perfetta parole spese benissimo intanto lasciami salutare tutti i nostri ascoltatori le persone che ci stanno seguendo perché è giusto dargli un benvenuto e ringraziare anche te che sei lì e che ti sei preso la briga di iniziare di partire di rompere il ghiaccio in questo in questo piccolo viaggio perché proprio un viaggio di viaggio si tratta io oggi vorrei provare a compiere una brevissima escursione un piccolissimo viaggio virtuale all'interno di quel luogo affascinante per certi aspetti anche misterioso che è l'arcipelago dei social network come spesso uso definirlo con i miei studenti ci soffermeremo precisamente sull'isola di instagram e proveremo ad indagare come si muovono l'arte e la creatività in generale all'interno di questo spazio proprio perché mi piace dargli la connotazione di luogo di spazio da occupare o da vivere mi è venuta l'idea del titolo che hai già accennato tu di questo webinar the place to be ovvero il luogo dove stare ma anche il luogo dove essere perché dietro ogni gesto creativo c'è una persona dietro ogni opera d'arte c'è un individuo un creativo un artista che è che esiste e che ha bisogno di un luogo dove stare dove esistere e oggi abbiamo a disposizione anche questi nuovi spazi in new media che sono che non sono delle estensioni di realtà ma realtà vere e proprie perché le cose che accadono sui social accadono davvero perché nel momento in cui io decido di condividere un'immagine o un post o un o una stories qualunque ho compiuto un'azione che è accaduta realmente e le cui conseguenze seguono delle dinamiche che sono tipiche della comunicazione che sono comunicazione ma prima di addentrarci in questo percorso che indaga sulle possibili motivazioni che muovono l'artista alla condivisione proviamo un attimo a vedere quali sono le tipologie di promotori dell'arte e della creatività che si muovono all'interno dei social network per prima cosa però è necessario capire quale sia il primato collegato all'arte da attribuire a queste piattaforme tra le azioni che i social stanno svolgendo nei confronti dell'arte di sicuro c'è quella di renderla più accessibile a tutti o se non altro più raggiungibile in qualche modo anche più fruibile quello che le piattaforme social stanno attuando è un processo che riduce per certi versi l'aspetto elitario che da sempre ha avuto l'arte non è più per pochi o per chi sceglie di andare a cercarla o comunque non solo per loro ma è di tutti arriva a tutti anche sinceramente a chi non sa che farsene questo aspetto ha ovviamente dei pro e dei contro come tutto ma non si può negare il fatto che la sensibilizzazione all'arte in questo senso sia una cosa pregevole e perché no lasciami dire anche anche bella ciò significa che tutti che tutti i fruttori dell'arte sono messi nelle stesse condizioni ma non significa che tutti siano in grado di capire l'arte di leggerne i concetti sottesi di capire quali sono i concetti dietro ogni opera d'arte non sono di certo in grado di interpretare il messaggio in modo totalmente come dire universale ma sicuramente lo possono interpretare in modo personale di vedere esattamente con la propria percezione quello che c'è c'è di vedere esattamente quello che sanno come diceva munari perché ognuno esattamente vede ciò che sa il fatto però che i social abbiano reso l'arte più accessibile non significa che tutti i protagonisti dell'arte siano favorevoli o predisposti a questo anzi tutt'altro esiste anche un gran numero di creativi che non ha la minima intenzione di scendere a questa sorta di compromesso ossia sono coloro che continuano a trovare spazio pubblico e mercato esclusivamente nel mondo esterno chiamiamolo così per fare una distinzione cioè quello considerato per certi aspetti ancora istituzionale come se ci fosse un mondo istituzionale uno che non è che non è approvato da determinati parametri e questo mondo che è fatto ancora comunque di gallerie di musei di case d'asta sono due filosofie di pensiero che secondo me convivranno per molto tempo ancora forse sono convinto che non ci sia nulla di male a mantenerle vive entrambe anche se ammetto sinceramente mi piacerebbe che dialogassero un po di più tra di loro se non altro per moltiplicare le opportunità e le possibilità dell'arte stessa ma sono altrettanto convinto che entrambe queste filosofie si evolveranno ulteriormente come nella natura stessa delle cose cioè quella di di vivere per cambiare o e di cambiare per vivere insomma ma senza perderci troppo in riflessioni astratte o o quantomeno filosofiche proviamo un attimo a tornare a quel discorso iniziale che facevo e vediamo di identificare quali sono i promotori dell'arte nei sui social oggi io ho provato a fare un attimo un po di ordine all'interno di questa delle mille personalità che si muovono sui social network e ho deciso di racchiudere il tutto in tre categorie ben precise e l'ho definita in questo modo artista singolo museo e content creator parola che già hai accennato tu all'inizio della presentazione provo a descriverli brevemente tutte e tre per capire un attimo quali sono quali sono le azioni che compiono all'interno dei social network partiamo subito con l'artista singolo che solitamente è un creativo che nella vita ha scelto l'arte come mestiere perciò lavora nel mondo dell'arte e lavora con l'arte dipinge scolpisce fa installazioni mostre e quant'altro lo fa indipendentemente da ciò che accade sui social ma da qualche anno li usa per diffondere le proprie opere una sorta di di retrina dove esporre virtualmente i propri prodotti le opere del proprio ingegno il proprio lavoro e farlo conoscere a quante più persone possibili ecco spesso coinvolge il suo pubblico facendo vedere delle sorte di work in progress dei propri elaborati quindi fa dei video dove mostra quali sono i procedimenti per per creare un'opera o fa anche delle dirette dove intrattiene il pubblico mostrando veramente fase dopo fase la creazione dei propri artwork e questo lo fa soprattutto per intanto per ridurre anzi sicuramente mi viene a dire per ridurre la distanza tra sé e i propri chiamiamoli ammiratori i propri seguaci proprio follower usiamo il termine esatto e in qualche modo lo fa per abbattere quella sorta di freddezza che per ovvi motivi si crea su un display si crea su uno schermo e fa questo oppure si nasconde abilmente cioè non dà nessuna informazione di sé e lascia parlare le proprie creazioni un esempio perfetto giusto per rendere l'idea di quello che stiamo parlando forse il più famoso dei giorni nostri è Banksy che addirittura usa instagram come unico canale per diffondere la sua parte ne fa perciò un luogo esclusivo attraverso cui annuncia l'avvenuta realizzazione di una sua opera e addirittura la comunicazione della notizia diventa esta stessa un'opera d'arte cioè credo che sia questo l'esempio più alto di utilizzo artistico dei social cioè potremmo veramente parlare ore di lui di quello che fa all'interno dei suoi canali però è esattamente la rappresentazione della figura dell'artista singolo declinata all'interno di un canale social attraverso la diffusione dei social stanno però cambiando anche le dinamiche legate al collezionismo per certi aspetti ad oggi tutti possono auto rappresentarsi possono auto presentarsi e di conseguenza anche gli artisti possono auto vendersi mettendosi in mostra realmente in vendita su su instagram questo dà la possibilità ad una acquirente di poter contattare personalmente l'artista in questione senza dover passare sempre per galleristi o art dealer e quindi instagram diventa un importante settore dedicato anche agli investimenti dell'arte oltre che al business e al marketing dell'arte stessa subito dopo la figura dell'artista singolo mi piace mi piacerebbe analizzare quella dei poli museali cioè come si comportano i musei in questo momento storico in cui social hanno preso il sopravvento sulla comunicazione allora la differenza iniziale che che era diciamo un po c'era un po di erano un po resti ecco a mettersi in ballo in questo senso sta lasciando il posto ad una un'approvazione direi quasi totale dello dello sharing social non tutti i poli museali tuttavia hanno iniziato questa vita online però ci sono anche anche soprattutto in italia devo ammetterlo però ci sono delle delle belle realtà che a piccoli passi a volte anche passi falsi incominciano ad intraprendere delle strategie comunicative sui social abbastanza adeguate senza però lasciarsi andare troppo alle critiche perché altrimenti sembreremmo dei lamentoni vorrei concentrarmi sul fatto che si possono analizzare si possono utilizzare dei buoni esempi di pratiche per i musei per i poli museali uno tra tutti che è forse il mio preferito forse perché ci ho anche partecipato diverse diverse volte è quella pratica che viene chiamata empty museum che cos'è in italiano sarebbero musei vuoti si tratta di visite esclusive di ambienti che normalmente sono pieni di pubblico o addirittura non aperte al pubblico perché a volte sono proprio dei luoghi esclusivi nei quali viene data la possibilità in via del tutto straordinario di fare delle foto senza nessuno quindi senza che ci siano altre persone o i cui protagonisti siano veramente pochi partecipanti all'iniziativa foto che poi vengono foto video stories che vengono condivise su instagram con un hashtag dedicato che di solito include la parola empty seguita dal nome del museo dalla location oppure dalle dall'evento dal nome dell'evento che si è creato il fenomeno empty museum è diventato tale nel momento in cui qualcuno ha deciso di dargli questo nome prima che il movimento empty si chiamasse così si parlava semplicemente di visite esclusive si parlava a porte chiuse mi raccomando nelle quali era consentito fotografare sempre in via del tutto eccezionale si tratta però di un espediente molto valido per avvicinare il pubblico all'arte perché perché cosa succede gli spettatori hanno la possibilità di immedesimarsi nei fortunati visitatori e quindi di vivere l'esperienza artistica con un sentimento di empatia che nell'arte fa la differenza è come se avvenisse una sorta passami questo termine di transfer virtuale che è potente e allo stesso tempo virale perché virale è una parola che viene spesso usata all'interno dei social è una parola che fa comunque la differenza a mio avviso è una trovata vincente è una trovata che ha un suo significato che è spendibile e che come dire è reiterabile da parte di diversi poli museali veniamo poi all'ultima tipologia che forse quella che ci aprirà la possibilità di intraprendere un discorso ancora più ampio che quello che stavi accenando tu all'inizio che è la tipologia dei content creator nell'accezione però mi permetto di sottolineare artistico creativa del termine naturalmente perché content creator inteso generalmente potrebbe essere semplicemente e semplicemente lo 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 dico senza senza insomma di sminuire il lavoro potrebbe essere chiunque crede contenuti all'interno di canali social ma il content creator che ha una funzione diciamo più creativa più artistica non fa dei semplici contenuti anzi si preoccupa anche di indagare in altre dinamiche che vedremo sicuramente quando parleremo nel momento in cui affronteremo il discorso più complesso che è quello dell'identità visuale dell'identità visiva chi sono i content creator si tratta spesso di figure che hanno intrapreso la loro carriera artistica proprio sui social collaborando con brand con agenzie di comunicazione sponsorizzando prodotti marchi creano campagne pubblicitarie vendono le proprie creazioni digitali spesso queste persone questi individui non hanno delle opere d'arte concrete reali fisiche ma sono dei file dei jpeg delle animazioni tutto ciò che di digitale può essere diffuso è un'arte nella maggior parte dei casi totalmente effimera e io questa cosa la sottolineo spesso potremmo definirla proprio così perché esiste solo nel lettere e lì si diffonde io penso sempre a quello che potrebbe accadere un giorno che andrà in down un sito un'applicazione quale instagram che ci saranno miliardi di immagini che sono nate esattamente per essere immagini cioè per essere condivise all'interno di social che andranno perse allora la domanda classica da parte dei miei studenti o da parte di quelli che si pongono questo problema è cosa rimarrà di queste opere perché le chiamiamo per fine rimarrà semplicemente un ricordo e sarà il ricordo stesso che diventerà l'opera e che si tramanderà poi da persona a persona e si parlerà un po diventerà quasi una figura come dire un mito una una leggenda io questo lo trovo veramente affascinante anche su questo aspetto dell'arte film potremmo parlare per ore come ben sai anzi per giornate intere però io direi di racchiuderlo semplicemente con questa definizione che è un'arte massimo ti sentivo forse volevi dire no no prego prego è un'arte che si diffonde che esiste solo nel momento in cui viene condivisa che già di per sé è un concetto bellissimo il content creator quindi a maggior ragione può essere considerato quasi una passami il termine una figura mitologica per metà artista e per metà pubblicitario c'è uno che si occupa di creare un'immagine come pure di accompagnarla con una caption efficace che crea engagement e che quindi utilizza come ben vedi un linguaggio specifico che serve proprio a sottolineare il suo stretto legame col marketing e con la comunicazione visiva per cui caption engagement parliamo di copy parliamo di marketing pubblicitario di quest'ultima quindi della comunicazione visiva il content creator conosce sicuramente la grammatica gli elementi che la compongono nonché le regole sintattiche per poterla applicare efficacemente ma soprattutto sa una cosa importantissima che per distinguersi tra la furia delle immagini che circolano su instagram o comunque su web in generale sulle lettere ha dovuto crearsi un'identità forte e precisa e stiamo parlando di identità visiva che non è una questione da poco no anche perché io direi che innanzitutto no prima mi veniva da ridere perché penso a quanto in realtà sono poi molto più lunghe le nostre conversazioni circa quello che stiamo facendo in questo momento io già vedo che sono quasi mezzogiorno e dopo l'ora che sono riusciti a dire tutto quello che vogliamo no perché voi dovete sapere che io il professor De Maio proprio anche solo per il piacere di condividere determinate cose ci si trova ogni tanto e si parte con questi discorsi che restano sempre aperti e forse questo è il bello no perché poi danno la possibilità a noi di andare a chiuderli magari insieme ai propri studenti in contesti diversi quando non ci troviamo insieme però devo dire che molto 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 interessante questo 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 primo intervento tuo perché innanzitutto rilevo un fatto che anche dal punto di vista del content creator o comunque di chi lavora e crea una professione all'interno di un meccanismo così contemporaneo come il social non è possibile improvvisare non è possibile essere degli smanettoni bisogna studiare avere le idee chiare e riconoscere in maniera molto approfondita le regole base quindi c'è una coerenza una pertinenza rispetto a qualcosa che è secolare trovo estremamente affascinante e direi essenziale la funzione di arrivare al pubblico perché questo elimina un po' quell'autoreferenza no a cui ci siamo un po' troppo abituati quando il sistema dell'arte interferisce con l'arte stessa ma attraverso delle pratiche che sono diverse rispetto a quelle del social no per cui proprio come dire si impadronisce dell'identità talvolta dell'artista e quindi se l'artista ha un'identità custodita da qualche altra parte rischia di non poter più in qualche modo arrivare al punto noi lo sappiamo che in qualche modo l'artista è colui che veicola questa bellezza in forma di opera d'arte no lo dicevo anche ieri citando heidegger però ora lasciamolo là dove è nel senso che però l'origine dell'opera d'arte è nell'arte stessa noi lo sappiamo e quindi noi abbiamo questa capacità di veicolarla di veicolarne la verità in forma di bellezza attraverso quelle che sono le nostre opere sicuramente questa idea dell'empty museum che è spazio puro che è geometria quindi è la ricerca dell'immagine pura quindi ancora una volta qualche cosa che con l'identità e con la comunicazione o capisco questa cosa oppure difficilmente riesco ad apprezzarne se non in maniera del tutto superficiale i reali confini di questo concetto per arrivare addirittura al content creator che è evidentemente quello che nasce insieme al social e quindi che è quello la cui identità visiva ma anche l'identità intesa come notorietà come posizionamento come proprio il dove si colloca no il the place to be rispetto a quello che è il social instagram in qualche modo è il protagonista mi viene in mente proprio il rapporto tra image e picture che è proprio uno degli elementi essenziali no della cultura visuale cioè ogni immagine ha un hardware ma se io distruggo quell hardware e quell'immagine aveva prodotto identità tutto sommato se anche io non continuo a vedere l'oggetto su cui c'è il brand perché il brand in qualche modo diventa garanzia quasi politica di un discorso associativo e quindi identità da un punto di vista proprio filosofico se vogliamo antropologico in senso pieno chiaramente non c'è quasi neanche più bisogno di quella certezza effimera tra virgolette insomma l'identità oggi in una cultura dove l'immagine supera il primato della parola e quindi non è più semplicemente come dire storicizzazione di qualcosa ma è proprio istituzione della realtà stessa che dici possiamo provare a percorrere questa strada esattamente massimo hai fatto un l'introduzione perfetta e hai già anticipato alcuni concetti che ora cercherò di di approfondire anche sintetizzandoli anche e dando magari qualche piccolo accenno a mi dire possiamo chiamarli suggerimenti consigli e non vorrei esagerare in questo assolutamente per predisporre diciamo per aiutare anche i nuovi protagonisti dell'arte nuovi creativi a cercare la propria identità all'interno dei canali social quindi cercherò in qualche modo di analizzare il concetto dell'identità artistica creativa la chiamiamo identità visiva per convenzione per includere comunque tutti quegli aspetti che riguardano la manifestazione dell'io nell'etere cioè si tratta di un concetto che è molto sfaccettato che prende in considerazione molteplici fattori e anche da diverse angolature e difficilmente si può racchiuderlo in una definizione univoca e universale sono tutte ipotesi di concetto sono interpretazioni dipendono quindi dalla pluralità di voci e che si intrecciano e che arrivano a formare spesso una sola globale gigantesca voce proviamo perciò ad analizzare alcuni di questi aspetti quelli più diffusi quelli più facilmente catalogabili legati tutti all'immagine che ognuno dà di sé all'interno del web più in particolare quindi sulle piattaforme social si parla di immagine perciò quindi di un supporto virtuale che diventa specchio doppio da un lato riflette l'artista e dall'altro quello che gli altri vedono dell'artista secondo proprio la loro percezione perciò è un gioco di riflessi raddoppiato che passa attraverso il display dello smartphone in questo caso e che in qualche modo corrisponde ad una sorta di sfida che l'artista sceglie di accettare cioè quella di far coincidere l'immagine che ha di sé con l'immagine che dà di sé questa immagine rappresenta una sorta di fototessera dell'artista che si moltiplica all'interno delle sue opere diventa il motivo per cui è riconosciuto per cui è individuato nel mezzo dell'insieme in mezzo al mucchio di cose che circolano quindi la sua identità è qualcosa che inizia ad esistere sul social nel momento in cui è riconosciuta dagli altri perché il meccanismo di funzionamento di questi luoghi virtuali è esattamente il risultato di un dialogo comunicativo che è fatto di condivisioni e di feedback allora l'immagine non è più un oggetto ma un evento un'azione che si compie non è più possibile parlare di virtuale o reale come di dimensioni distinte separate da subito da quando è internet è arrivato ha realmente generato una trasformazione antropologica di forte impatto sull'economia sulla nostra vita sociale sulla politica sulla cultura le esperienze vissute online sono reali dunque anche ciò che viene creato vissuto e scambiato interferisce con la nostra sfera con la sfera del reale questa fruizione mediata della realtà assunto una presenza così forte così strong nella nostra esistenza da condizionare irrevocabilmente il nostro modo di essere e il nostro essere nel mondo allora in quest'epoca l'identità artistica non appartiene più all'oggetto ma all'evento e gli artisti riconoscono che la forza di un'opera non sta più nel lavoro in sé quanto nell'insieme di relazioni create con il pubblico esattamente come anticipato tu relazioni che sono intrecciate da una stretta rete di condivisioni di conseguenza l'artista diventa colui che non si limita a fare a creare ma a suscitare processi quindi a smuovere in qualche modo delle reazioni per fare ciò deve risultare credibile quindi ritornando allo specchio di prima deve riconoscersi per farsi riconoscere non è un'azione semplice questi spazi virtuali sono veramente dinamici in continua accelerazione ed evoluzione quindi fissare dei punti stabili delle certezze come l'identità è un processo di costruzione che richiede impegno e studio non ci sono regole precise però non ci sono trucchi magici non ci sono neanche risposte certe come dico sempre ai miei studenti quello quella dei social è una materia veramente nuova è una materia che sta nascendo adesso la sua letteratura la stiamo scrivendo adesso noi che sperimentiamo ogni giorno soluzioni nuove per comunicare possiamo però provare a in qualche modo definire quali sono i parametri indispensabili per iniziare a tracciare i tratti distintivi della propria identità visiva e io come dicevo prima vorrei elencarli come se fossero dei consigli dei semplici consigli che ho sperimentato sul campo per cui proverei a dare degli aggettivi e abbinarli a loro delle azioni che possono essere compiute ad esempio io vorrei partire dalla riconoscibilità che è la caratteristica di essere facilmente individuati tra tutti o di consentire agli altri di ricondurre l'opera dell'artista a se stesso quindi di abbinarle subito tra di loro io vedo un'immagine dico quella è di tizio ed è importante che questa cosa avvenga all'interno dei social network non è una semplice questione di stile non si può semplicemente ricondurre tutto all'unicità dello stile scelto ma sui social diventa la fusione di diverse caratteristiche alcune estetiche e altre comportamentali il tono voice ad esempio il modo in cui si sceglie di raccontarsi la grana dei nostri discorsi la nostra voce virtuale deve essere sempre autentica scegliamo il modo di raccontarci che ci rappresenti al meglio che non ci costringa a forzature innaturali che sembrino sbavature che sembrino delle cose che non ci appartengono allo stesso tempo individuiamo degli elementi che ci caratterizzano e diamogli corpo visivo rendendoli protagonisti del nostro messaggio visuale esempio un colore un oggetto un segno un preset fotografico una palette cromatica facciamo che sia un qualcosa di inequivocabilmente riconducibile alla nostra persona o a quell'idea che abbiamo deciso di dare di noi alla parte che abbiamo scelto di rendere visibile alla parte che abbiamo deciso di condividere quindi la parte visibile e condivisibile proviamo perciò ad essere anche unici per cui riconoscibili ed unici meglio ancora però originali oggi è stato detto tutto ed è stato inventato anche troppo ma nessuno è come l'altro e su questo non c'è non c'è dubbio siamo tutti diversi e questo è un buon punto di partenza per cui teniamo d'occhio i trend ma scappiamo dalle omologazioni quelle che ci costringono ad utilizzarli e interpretiamo sempre la realtà a modo nostro leggendo e riscrivendo il mondo in modo del tutto personale perché artista secondo me è colui che dimostra una capacità di intuire e di sintetizzare gli aspetti salienti di questo di questo nostro divenire abbastanza caotico sostenuto anche da un profondo impegno di natura etica anche mentre sviluppa i suoi ambietti simbolici quindi mentre trova i simboli per poterli sviluppare per poter raccontare questo modo per cui scegliamo bene questi singoli che rappresentino la nostra visione non quella degli altri la nostra visione di ciò che siamo e di ciò che abbiamo attorno facciamo che siano coerenti con la nostra indole artistica creativa e che non siano un furto scopiazzato dall'artista a cui ci ispiriamo perché sicuramente ci sarà qualcuno a cui ci ispireremo ma piuttosto sarà la rielaborazione di quel linguaggio di quel discorso che ha fatto l'artista io dico sempre ai miei studenti di ascoltare le persone che parlano bene di sentirle di fare proprio di sedimentare le parole che fanno che usano gli altri per poi rielaborare all'interno dei propri discorsi non vuol dire copiare non vuol dire pedissequamente prendere quello che gli altri dicono e riproporlo vuol dire reinterpretarlo vuol dire farlo proprio e dargli aggiungerci anche semplicemente una virgola un'intonazione è un modo per personalizzare i propri contenuti stessa cosa avviene con le immagini quindi scegliamo queste caratteristiche e perseguiamole in un discorso che sia univoco uniforme che cambi espressione in relazione al nostro umore al nostro stato d'animo ma che non cambi lineamenti li mantenga assolutamente riconoscibili è importantissimo questo io posso cambiare l'espressione il mio modo di muovere gli occhi la bocca ma i lineamenti devono rimanere quelli quindi nelle immagini che creo devo mantenere saldo il lineamento e cambiare soltanto l'espressione e penso che senza utilizzare cioè utilizzato questa metafora del viso si possa raccontare bene quello che sia questo questa caratteristica all'interno delle immagini questo serve per portare avanti una unità tematica che ribadisca la nostra identità che la confermi di volta in volta con un effetto una sorta di effetto di effetto eco che usa la nostra community i nostri follower come fossero una cassa di risonanza all'interno dei social per cui noi ci rispecchiamo in loro e loro ribadiscono riproducono rielaborano ed estendono la nostra immagine e un'identità visibile credibile un'identità visiva credibile è sicuramente sostenuta da un'urgenza comunicativa che le dà forza in qualche modo e che la spinge in avanti a rimbalzare tra gli occhi degli osservatori quindi la fa emergere dalla massa e la rende in qualche modo desiderabile ricercata voluta e qui in questo preciso momento entra in gioco la vendibilità di quel prodotto quindi il fatto che quella immagine possa essere venduta possa essere acquistata e che va oltre sicuramente l'efficacia comunicativa perciò riepilogando i semplici passaggi i semplici aggettivi riconoscibilità unicità e originalità e sicuramente coerenza coerenza e unicità tematica questi secondo me sono queste secondo me sono le caratteristiche principali più importanti che un creativo deve tenere in considerazione quando costruisce la propria identità visiva sempre ricordandoci che la nostra identità non sarà mai degli altri ma rimbalzerà all'interno degli altri perché il social è fatto per questo è fatto per creare ambienti di condivisione altrimenti si chiamerebbe a social scusa il gioco di parole conclusivo però ragazzi non c'è un motivo certo ci mancherebbe io tra l'altro prendo appunto io stesso perché magari poi riesco a modificare una serie di dinamiche sul mio profilo social no a parte a parte questo devo dire che ancora una volta no è chiaro tutto quello che è il processo proprio di studio che sta alla base per arrivare in qualche modo a una determinazione e alla costruzione di un'identità tutto sommato questa specie di doppio specchio no io a volte lo chiamo doppio specchio shakespeariano per giocare un po con i miei studenti esatto dovete immaginare che ci sia una sorta di vuol dire di monolito fra voi e il vostro pubblico che riflette che è uno specchio da tutti i lati e addirittura sul dorso ovunque e quindi da questa parte ci siamo noi c'è il content creator c'è l'artista c'è talvolta il suo committente anzi sempre c'è il suo committente che sia un committente che chiede un processo di comunicazione un'opera d'arte che comunque metta in moto un meccanismo di relazione per forza con chi però con quelli che stanno dall'altra parte dello specchio quindi l'identità che esce dal dall'unione committente artista e nella quale poi loro rivedendosi si riconoscono deve assolutamente riflettere dall'altra parte la riconoscibilità di tutti i follower di tutto il pubblico che a sua volta sta a guardare e questo è proprio un meccanismo tipico della comunicazione e di cui la pubblicità in qualche modo diventa forse l'applicazione più precisa no è il paradigma di riferimento per far capire come funziona questo meccanismo d'altra parte quando noi andiamo a creare un brand stiamo dando la dimensione in forma di immagine all'identità peraltro in quel caso di qualcun altro quindi ulteriore complessità no quindi io posso lavorare su di me posso essere io il veicolo che si connette alla storia dell'arte e crea l'arte oppure addirittura crea un'immagine un supporto qualche cosa che serva a veicolare l'identità di qualcun altro non è proprio un giochetto è una cosa che chiaramente ancora una volta rilancia una serie di questioni e quindi direi in qualche modo siccome accennavo all'inizio anche un po a questa mi viene da pensare no sentendo anche il ragionamento a questa a questo vuoto che c'è stato talvolta nella contemporaneità che possono essere i mecenati cioè questa mancanza di qualcuno che voglia partecipare all'atto creativo eccetera eccetera bene detto che non so possiamo riuscire a capire se esiste un legame tra la pubblicità e l'arte e l'artista in termini di identità in qualche modo mi sembra che sia già stato chiarito ma proprio se il brand se qualcosa che sta all'interno del social insieme al content dietro può essere in qualche modo nel meccanismo relazione arte pubblicità il mecenate questa questa figura che può in qualche modo rendere proprio un lavoro questa questa cosa che ci stai raccontando certo certamente perché oggi capita sempre più spesso che un'azienda decida di associare ed elevare il proprio marchio brand commerciale dei valori che sono i valori intrinsechi dell'arte della cultura si tratta di un'operazione forte ed efficace che i responsabili del marketing della comunicazione delle grandi aziende hanno capito ormai bene hanno ben intuito il brand di design hotel automotive beni di lusso decidono sempre più spesso di affiancare la propria immagine a quella dell'arte coinvolgendo magari gli artisti nella progettazione di campagne mostre installazioni o come ambassador e testimonial l'arte permette di comunicare in modo immediato e interpreta e rappresenta dei valori delle emozioni dei sentimenti persino pensieri collettivi e sociali per un brand perciò utilizzare queste leve nella comunicazione diventa un'arma molto forte molto efficace cioè può raggiungere i propri clienti che a loro volta associano positivamente il brand ai valori veicolati dell'arte quindi l'introduzione di questi elementi artistici nel marketing può di un po prendere varie forme può assumere varie forme una strada è quella sicuramente di sviluppare per esempio un design artistico per i propri prodotti tenendo ben presente la necessità di non comprometterne la funzionalità una seconda direzione è quella invece della comunicazione cioè inserire componenti artistiche nel packaging o nella pubblicità di un prodotto perché può influenzare influenzare in maniera significativa la valutazione dei clienti poiché l'esposizione a un oggetto d'arte suscita emozioni nello spettatore l'inserimento di quello stesso oggetto nell'arte della pubblicità potrebbe aumentare il valore percepito dal cliente proprio in virtù di quelle emozioni evocate quindi l'impatto positivo dell'opera d'arte sulle valutazioni è un prodotto è un effetto evidente l'arte può creare dei valori effettivi per i brand e può farlo non solo fornendo una prospettiva diversa ma anche in maniera più diretta e tangibile trasferendo valore effettivo ai prodotti alla radice di questo processo c'è un meccanismo emotivo le emozioni che si possono suscitare nei clienti attraverso l'attività di marketing che includano l'arte come una leva per creare valore allora cosa succede in un certo senso questo non è un qualcosa che come dire è stata inventata ieri è stata inventata oggi ma è una cosa che esisteva già cioè tu hai accennato ai mecenati ed effettivamente in un certo senso questo lo sapevano già secoli fa cioè non è una cosa nuova parlo quindi del mecenatismo per esempio cioè aveva intuito un discorso simile si manifestava in quella forma di sostegno economico e materiale da parte dei sovrani dei signori degli aristocratici nei confronti di quegli artisti quali ponevano la propria arte al servizio del potere rappresentando e per loro dando così prestigio alle corti del potere possiamo quindi sicuramente parlando migliorandone realmente no assolutamente la morale no tanto proprio un valore aggiunto esatto ma senza fare esempi scomodiare scomodargli ma li abbiamo tutti sotto gli occhi nelle città d'arte quello che gli artisti hanno prodotto per grazie al come dire al supporto dei loro mecenati quindi possiamo parlare veramente di nuovi mecenati cioè di mecenatismo contemporaneo se vogliamo un rapporto di collaborazione tra brand che in questo caso diventa il mecenate è artista o content creator se vogliamo e ricalca precisamente il mecenatismo storico comunque la tendenza a proteggere beneficiare finanziare artisti studiosi motivata da ragioni di prestigio oltre che di gusto per la realizzazione di opere o di arte o di creatività il fine è quello di instaurare collaborazione di qualità di mutuo racconto da un lato gli artisti chiamati a collaborare raccolgono l'input del marchio del prodotto di turno e ne esplorano in qualche modo le suggestioni di viaggio di caratteri di identità dall'altro questa attività vuole onorare attraverso la libertà di temi e di forme artistiche la personalità di ogni individualità creativa coinvolta anche se vogliamo molto semplice perché non è una cosa ripeto che è nata oggi anche nella tradizione italiana ci sono esempi ricchissimi in questo senso partnership storiche tra noti loghi o grafici artisti che hanno in qualche modo cristallizzato l'estetica a volte sono diventati il proprio segno distintivo di una campagna e spesso ne hanno decretato la buona riuscita e anche la riconoscibilità oggi questo avviene all'interno dei social tramite content creator loro si fanno portavoce dei valori del del brand ma il brand si fa portavoce dei valori creativi le due cose si uniscono e creano secondo me un connubio meraviglioso bellissimo e non dobbiamo banalizzarlo anche se dire pubblicità non vuol dire banalizzare e c'è dietro un lavoro meticoloso di grandissimo studio c'è un lavoro di grande preparazione fare comunicazione culturale fare comunicazione visiva di alto livello anche insieme a prende è un vero e proprio lavoro è un mestiere è un una professione è come è una vera e proprio professione ne so qualcosa richiede del tempo richiede dello studio dietro ecco ogni no perché va detto cioè non possiamo lanciarla lì come se fosse eh no eh no l'immagine creata in due secondi è lanciata lì ci sono delle le tappe obbligatorie nella fatta creativa assolutamente che vanno rispettate eh senza arrivare direttamente a quello che sono il rapporto tra l'agenzia e il content creator quindi senza andare a scomodare subito quei meccanismi che sono tipici del del mondo del marketing e della pubblicità c'è qualcosa che viene prima che è uno studio che è una ricerca ogni qual volta un brand ogni qual volta un'azienda decide di affidare la propria immagine il proprio come dire i propri valori ad un artista l'artista deve studiare il modo migliore per farlo e deve studiare soprattutto il modo migliore per farlo senza snaturarsi cioè mantenendo quella famosa identità visiva che fino a cinque minuti fa abbiamo raccontato perché altrimenti il brand non ha scelto un artista ha scelto uno qualunque che potesse creare l'immagine invece qui il brand vuole esattamente usare l'artista come come ecco vuole che sia la voce dell'artista che parli del brand utilizzando esattamente le sue corde vocali io non posso cantare una canzone senza avere un testo che un'intonazione che fa parte del mio range vocale assolutamente fa il brand oggi quando decide di interprendere una campagna artistica in questo senso e su questo discorso quando inizio a parlare di queste cose alle lezioni io apro delle parentesi che sono infinite tu lo sai benissimo e quindi posso produrre veramente giorni e scelgo di solito uno studente che mi faccia il più di parentesi adesso io farò il tuo più di parentesi perché ma no ma non non io in quanto tale il tempo diciamo io faccio diciamo così ambasciatore beh chiaramente tu sai che per me potremmo andare avanti ad aprire parentesi a fare una serie di ragionamenti però è chiaro quindi che in qualche modo per arrivare a quello che tu ci hai raccontato ci stai raccontando a quello che stiamo dicendo in questo dialogo è necessaria insomma una grande consapevolezza la consapevolezza nasce dal desiderio di fare esperienza nasce dallo studio nasce da dall'errore dalla sperimentazione dalla dalla performance insomma nasce dal fatto che ci si deve mettere lì lavorare studiare trovare cercare ricercare ancora una volta finché in qualche e ogni volta ricominciare da capo una ricerca di fronte a uno stimolo nuovo c'è però un fatto che per me è fondamentale io vorrei sapere un pochino tu come hai fatto a c'è qual è la tua storia benedetto de mai quindi ora indagiamo adesso indagiamo proprio ci alleggeriamo abbiamo 10 minuti se qualcuno poi nel frattempo vuole lanciare delle domande o ha delle curiosità naturalmente lo può fare però io direi che sentire un po come come è accaduto tu hai quanti follower hai tu sul tuo profilo ah no ora non ricordo più a quanto siamo arrivati però sì allora è nato sì a me piace molto raccontarla questa storia perché è nata veramente è partita con una con un'idea è partita con un'idea precisa io a un certo punto ho deciso di avevo sentito parlare di questa di questa app di questo instagram è mi incuriosiva ma ho deciso di volermi iscrivere perché avevo un progetto perché avevo l'intenzione avevo veramente quell'urgenza quell'urgenza comunicativa che doveva arrivare a più persone possibili ho visto che all'interno di questo social alcuni riuscivano a fare esattamente questa cosa cioè di parlare a tanti di far vedere le proprie immagini a tanti e io volevo arrivare a quel livello a quel risultato me la sono studiata mi sono iscritta me la sono studiata per qualche mese cercando di capire le dinamiche cercando di capire ma perché quello lì c'ha tutti sti like perché c'ha tutti sti follower come si fa ad arrivare a quel livello lì allora ho notato che fondamentalmente le persone che riuscivano ad avere molto più molto più presa nel pubblico erano quelle che portavano avanti un'idea un progetto un qualcosa divisivamente come dire coerente io quest'idea ce l'avevo già io quest'idea l'avevo la covavo da tempo per cui ho detto sa che c'è il parlerò di me parlerò di me utilizzando qualcosa che che è una parte mia che mi che mi rappresenta bene ovvero le mie mani perché io da bravo artigiano ho iniziato a lavorare sempre con le mani dipingere disegnare e allora ho affidato alle mie mani il l'idea di potermi raccontare quindi ad ogni azione ogni cosa che succedeva creava una fotografia con le mani questo progetto era molto semplice anche esteticamente perché utilizzavo uno sfondo bianco molto semplice e la mia mano faceva determinate cose bene a quei tempi quando detta così sarà di biblico a quei tempi in quel tempo su instagram c'era una una bella una bella pratica io l'amavo molto che era il weekend hashtag project ovvero instagram stesso dal suo profilo lanciava un hashtag che durava il tempo di un weekend da venerdì a domenica è un hashtag tematico dentro il quale ognuno poteva creare qualcosa un giorno lancio questo tema che era molto bello che era sulle nuvole io adoro le nuvole ho detto vabbè benedetto devi lanciarti devi farlo anche tu questa volta pensa qualcosa di di straordinario ho fatto la cosa più semplice che mi veniva in mente ho partecipato è il caso voluto che vincessi quella quel weekend hashtag project ovviamente lì era molto erano altri tempi c'era un candore c'era il claim di base era community first c'è la comunità prima di tutto per cui che arrivavano questa pioggia di follower senza capire perché e incominciava ad avere dei dei consensi da lì in poi un certo jeffrey gerson che gestiva tutta la parte creativa all'interno di instagram ha cominciato a seguirmi senza che io me ne accorgessi perché non ci facevo neanche tanto caso a un certo punto dopo qualche mese mi ricontatta quindi erano passati sei mesi dalla mia iscrizione mi ricontatta per dirmi guarda io ti seguo da quella volta il tuo progetto mi piace tantissimo quest'idea delle mani funziona vorremmo fare un articolo un'intervista su di te sei d'accordo e via dicendo ok io ero d'accordo ovviamente quindi ho iniziato fatto questo articolo che dopo un mese esatto è stato pubblicato come spotlight all'interno di instagram questo ha creato il delirio perché da quel momento in poi mi sono caduti addosso una sessantamila follower ma soprattutto sono stato inserito all'interno di quella che i tempi veniva chiamata suggested list quindi ero un suggested user ovvero uno di quegli utenti che venivano suggerito ogni volta che qualcuno si iscriveva ad instagram tu ti iscrivevi e vedevo puoi seguire benedetto de maio tu ovviamente non sapendo chi si trattava dicevi sì per cui mi arrivavano ste robe qua ho incominciato ad avere tutta questa pioggia di follower e quindi tanti riscontri la faccio un po più breve perché vedo che il tempo stringe a un certo punto instagram decide di stravolgere le regole e ci mette dentro la pubblicità mette dentro il marketing noi artisti di vecchia guardia decidiamo di no assolutamente ma io non partecipo a queste cose ma io la mia arte non può ma io così cosa per cui inizia tutto il tormento interiore michelangelesco nel capire se partecipo non partecipo ciò ciò ho provato per circa un mesetto a rifiutare queste queste collaborazioni perché non lo so pensavo mi potessero snaturare però a un certo punto mi sono fatto esattamente quell'idea ho detto io ho comunque creato una forte identità visiva io posso sicuramente chiedere ai trend se vogliono questa partnership di utilizzare la mia identità visiva cioè di ribadire il concetto di marketing usando i miei i miei principi visivi bene questa cosa è andata a buon fine è stata accettata per cui da lì ho iniziato tutta una serie di collaborazioni con diversi brand ma tanti diversi tutti bellissimi un mondo meraviglioso miliardi di conoscenze in più che sicuramente hanno arricchito l'aspetto dove ero più carente ovvero quello del marketing della pubblicità di cui io veramente non avendo la studiata non sapevo però mi hanno portato a dover imparare determinate altre cose qui è lo studio cioè nonostante fossi docente insegnante mi sono messo a studiare anche questo tipo di come dire di nuova cultura che non mi apparteneva che adesso è diventata mia allora sono diventato come professione perché a un certo punto poi decidi di farlo come professione perché si prende consapevolezza della cosa sono diventato un content creator ho deciso di farlo di aggiungere anche quell'attività alle mie attività professionali come se fossi veramente un brand per cui ho creato ci ho creato attorno un una serie di cose burocratiche che fanno sì che tu sia registrato nel mondo come persona professionista che lavora in quel in quel settore te l'ho fatta brevissima massimo guarda tutta la parte emotiva delle commozioni tutte quelle cose la che volevamo fare noi quanto però voglio dirlo al pubblico che ogni tanto noi queste cose le facciamo però vabbè no ma devo dire che io sono sono molto felice di questa di questo nostro dialogo e soprattutto insomma di tutto quello che tu ci hai portato di questo mondo che in qualche modo credo abbiamo condiviso ecco perché la comunicazione proprio sin dal significato originario filologico è condivisione mettere in comune bravo mettere qualcosa in comune è questo no quindi comunicare è innanzitutto che tu vuoi raggiungere un'intesa altrimenti non si comunica quindi il creare impuni no anche se il tormento michelangelesco è fantastico no lo dovevo dire al certo punto mi sono ricordato come ero cioè con quella faccia l'ha detto no cioè con la mano proprio in fronte però tutto questo patto su un po romantico perché chiaramente poi è da lì un po che nasce tutto per poi dissociarsi invece entrare in una dinamica completamente diversa esatto io che dire direi che il nostro tempo credo sia sia per esaurirsi no ce la siamo preso però tutto quello che abbiamo detto diciamolo sottolineando quello che abbiamo detto avviene costantemente perché noi lo continuiamo a ripetere ogni tanto c'è questo intercalare che diciamo io lo dico sempre miei studenti ecco tutto questo avviene realmente all'interno delle nostre lezioni cioè quello che abbiamo fatto oggi non è altro che una lezione con partecipata nel senso che succede proprio così partono questo tipo di lezione frontale che non è neanche frontale perché poi di mezzo ci sono anche interventi comunque fusioni è proprio quello che noi cerchiamo di dare ai nostri studenti cioè di trasferire le nostre conoscenze le nostre esperienze e di fare diventare competenze ai nostri ai nostri studenti per cui facendoci forti dello storytelling e ricordiamoci che noi questa cosa qui che usiamo che raccontiamo serve alla fine perché rimane tutto più impresso però è bene che si venga fuori anche questo aspetto comunque didattico assolutamente no è proprio così è proprio una modalità noi abbiamo un po questa idea di interagire proprio con i nostri studenti che si tratti appunto di storytelling perciò insomma di essere insieme protagonisti di una storia cioè lo diceva prima il professor de maio ci ha benedetto il feedback la restituzione è cosa più che essere in un'aula virtuale o reale diciamo che sia in questa fase storica che non quella restituzione immediata che hai da parte di un studenti che si tratti di fare un ragionamento che si tratti di sperimentare qualche cosa di pratico di laboratoriale è comunque un laboratorio di idee di creatività di racconto di narrazione di che ne so che si mescola tra virgolette a tutta una serie di dimensioni scientifiche metodologiche che devono assolutamente esserci ma che ha questo tenore che ha questo ton of voice per usare esatto esatto bravissimo bravo bravo massimo perfetto io vedo che l'orologio guarda vedo che l'orologio ci dice 12 e 30 io lo saremmo arrivati saremmo arrivati a filo ma anche ciò guarda ne altre mille altre mille cose da dire ma faremo un primo appuntamento noi siamo comunque disponibili siamo disponibili alla regia intanto dico che abbiamo finito abbiamo finito il tempo salutare se vogliamo salutare certamente domande non ce ne sono forse insomma abbiamo in qualche modo implicitamente un po' risposta una serie di questioni io saluto l'ultimo lascio che sia benedetto a chiudere giustamente io sì sì no anch'io sono sono convinto ma veramente chiudere in maniera molto semplice ricordandoci che il potere della condivisione è veramente un potere una forza enorme e che va controllata bene come grandi poteri come che dicevano i supereroi da grandi poteri arrivano grosse responsabilità per cui mi raccomando facciamone buon uso e ricordiamoci sempre di condividere di farlo bene di condividerle belle queste cose di condividere cose buone che c'è bisogno veramente di tanta positività questo era una cosa che andava detta comunque bene la bellezza è bontà no sicuramente assolutamente anche di questo sicuramente e da sempre benedetto è un piacere come sempre a noi insomma in qualche modo c'è come compagno di questa avventura ovviamente è un grazie anche ovviamente all'accademia di belle arti per aver reso possibile questo momento l'accademia santa giulia per averci dato la possibilità di dialogare di fronte a tutti voi grazie davvero un saluto un saluto buona giornata